I giorni scorsi abbiamo appreso la notizia di un ritorno di interesse nei confronti del quinto capitolo di Grand Theft Auto, simboleggiato da un quantitativo di dirette quintuplicato rispetto al passato, superando agevolmente l'ammontare di 50 milioni di ore di visualizzazioni. Come abbiamo raccontato, il merito di quest'onda anomala è da attribuire specificatamente alla Roleplay Mode di GTA V, un pacchetto di file che trasforma l'opera di Rockstar in un GDR cittadino praticamente infinito, fatto per essere modificato a piacimento dalle varie community sparse in giro per il globo. Incuriositi dalle potenzialità e dal retroscena di questa pratica, abbiamo fatto alcune domande ai gestori di uno dei gruppi italiani più longevi attualmente in circolazione, ossia i ragazzi di Los Santos Life Italia, che ci hanno raccontato il lavoro e la passione dietro un roleplay dalle potenzialità sicuramente interessanti. Tutto inizia nel 2017, quando le prime avvisaglie della nascita di server in America dedicata alla mod, la community italiana si organizza per creare un proprio gruppo di appassionati. In passato, Rockstar ha fatto terra bruciata a dei siti in cui ha trovato oggetti e opzioni aggiuntive per il suo titolo, ma stando alle spiegazioni dei fan, superato un periodo di controllo massiccio delle modifiche nella rete, le tensioni si sono allentate sempre di più. Se consideriamo che la versione PC ha visto la luce nel 2015, sono stati necessari due anni per lasciare campo libero ai giocatori e ai programmatori, e lo stesso Eater si era ripetuto in precedenza con San Andreas. Nel 2019 arriviamo quindi a un vero e proprio boom di contenuti streaming e video dedicati alla roleplay mod. Gli utenti sono interessati al modo inedito di vivere il mondo di GTA V, e i vari gruppi abbracciano un sistema di regole ben definito per garantire il quieto vivere. Ad esempio, il classico scorazzare per la città distribuendo esplosioni e proiettili viene estirpato sull'Ashare, attraverso delle selezioni fatte ad ogni utente desideroso di partecipare. In gergo questa pratica viene chiamata un whitelist, e nel caso dei ragazzi di Los Santos Life, ogni nuovo membro deve superare una prova scritta e orale per far parte del server. L'attenzione principale è posta sull'evitare il powerplay, ossia la pratica di abbandonare l'aspetto interpretativo in favore delle possibilità offerte dal gioco. In GTA V si possono sbaragliare onde di nemici, compiere imprese come lanciarsi da un baratro con la propria automobile e uscirne in lesi e tante altre situazioni in cui il senso di realtà viene meno. Il codice del roleplay impone quindi un rispetto dei dettagli che non deve mai mancare, correndo il rischio di perdere ore su una montagna perché si sta guidando un mezzo non adatto ad affrontare ripide scalate. Il tutto poi viene fatto interpretando la propria parte, recitando battute in linea con il personaggio che si è creato in forma scritta sulla chat o orale. Nel caso di Los Santos Life Italia viene preferita la vera recitazione vocale, e poco importa se non si hanno grandi doti attoriali, l'importante è rispettare ad ogni costo il proprio ruolo. Sotto questo aspetto i fondatori del gruppo lavorano continuamente per migliorare l'esperienza generale, programmando nuove animazioni per offrire una rosa di azioni vicine alla quotidianità, dallo stringere una mano all'ammanettare un malcapitato. Non mancano casi in cui la produzione originale viene ampliata, per esempio introducendo un'azione come il portare la mano alla fondina per far capire agli altri interpreti che si sta per estrarre un'arma. Il tutto viene costruito con l'obiettivo di giocare ad un simulatore di vita vero e proprio, in cui ogni membro deve provvedere al proprio sostentamento. Non si tratta quindi di assecondare grandi narrazioni che sconvolgano l'equilibrio della città, quanto di racconti che emergono dalla combinazione di più eventi comuni che abbracciano un numero crescente di partecipanti. Nel chiedere degli aneddoti ai ragazzi di Los Santos Life ci è stato raccontato di alcune vittime decedute a seguito di un rapimento da parte della gang messicana. E più del fatto straordinario in sé, a colpire gli admin della community sono stati i successivi funerali a cui ha partecipato l'intero server, che tra l'altro è stato modificato per ospitare 64 giocatori, mentre la versione base della mod ne contempla la metà. Oppure si vivono momenti come le elezioni che permettono a tutte le vicende quotidiane di unirsi per dar vita a qualcosa di diverso. Per esempio, si è sfiorata la profondità del metagioco quando, per screditare uno dei candidati al ruolo di presidente, è stato realizzato un finto video inchiesta con informazioni fasulle pubblicate in seguito su YouTube. Il fascino della roleplay mode sembra nascondersi dietro tutte queste piccole narrazioni che si intrecciano, causando conseguenze che caratterizzano quel dato personaggio e chiunque ne venga in contatto. Anche un semplice impiego da giornalista incaricato di svolgere dei documentari nella natura può portare ad eventi straordinari, ma sempre rispettosi di un autoimposto senso di realtà. Su questo concetto è bene soffermarsi, perché è necessaria una grande coerenza nel riconoscere di essere periti in un incidente dopo aver premuto troppo l'acceleratore, specialmente se nel gioco originale il personaggio non muore effettivamente. In quei casi arriverà un medico impersonato da qualcun altro che controllerà il polso e stabilirà l'effettivo decesso, con tutte le conseguenze del caso che passano dalla perdita degli oggetti dell'inventario al coma o alla creazione di un nuovo ruolo. Le potenzialità sono effettivamente illimitate e ogni community si prodiga nell'interpretare a proprio modo la base offerta dalla mod. I ragazzi di Los Santos Life ci hanno raccontato per esempio di aver sviluppato un proprio social network in roleplay utile ai personaggi fittizi all'interno del server per condividere le loro foto e le storie. Oppure di aver implementato un sistema di gestione dell'inventario sia personale che dei veicoli, chi tiene in considerazione lo spazio disponibile e il peso trasportato. In tal senso i giocatori affezionati al roleplay di GTA vivono un leggero scetticismo nell'avvicendarsi di influencer e streamer alla mod. Da un lato portano fama a questo mondo underground, dall'altro aprono alle masse poco educate un metodo di fruizione che trova il suo maggior punto di forza nei dettagli. Non si tratta necessariamente di affrontare grandi sparatorie o esplosioni degne di un film di Hollywood, anzi il roleplay è diametramente opposto a tutto ciò. Impersonare uno stilista che lancia la propria linea di abbigliamento oppure un prete non proprio sano di mente, ogni parte può nascondere una straordinarietà nella quotidianità, ma per scoprirlo bisogna rispettare le giuste regole.